Eccoci qua amici di Occhio Pavese di Facebook con gli ospiti di questa puntata di Muglie Puppe Maraia Queen, Domenico Mangano, Rita Ballerina, Giuditta Mangaloni Com'è andata? Benissimo, bene, che splendore tra l'altro questa sera Sì, un po' di punto luce, con un po' di perle Giusto un pochino, cosa ne pensi di questo punto luce? Perfetto, sta benissimo, veramente Fa più il punto o fa più la luce? Eh, più luce dai No, no, devo dire Vabbè, ci sono suggerimenti Rita, com'è andata la sera? Benissimo, mi sono divertita tanto Visto che ci sono tante persone della mia età E mi fa piacere questo, vorrà dire che alla mia età funziona ancora Alla mia età è anche il titolo di una canzone di Tiziano Fer Eh sì, la canterò la prossima volta quando mi richiamerai Vedi, 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 Rita, tu devi esserci Giuditta Beh, è sempre bello stare con tutti voi E spero, io mi sono divertita E spero che si siano divertiti anche tutti Tutti gli spettatori presenti Presenti e quelli che stanno guardando su occhio povese Lasciamo un saluto a loro Ciao, grazie mille